Buongiorno Presidente, io ho individuato, buongiorno. Allora, provate di aspettare questo venticino, infatti qua sul tema dei migranti sappiamo per il cambio di passo per il contatto esterno e ci sanno anche le risorse sul Mediterraneo centrale e sul Nord-Altica. Dunque, guardi, complessivamente sul Consiglio per noi le conclusioni sono un'ottima base di partenze su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo ci sono le posizioni italiane, per cui ripeto, mi pare che insomma la bozza di conclusioni, poi vedremo come uscirà, ma sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura. Per quello che riguarda le migrazioni non devo ricordare appunto che quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile otto mesi fa, siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma, anche col contributo di altre nazioni, ma insomma tra la annosa divisione tra paesi di primo approdo, paesi di movimenti secondari a un approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna. La Tunisia, il fatto che ci sia un paragrafo dedicato alla Tunisia, non nel capitolo delle migrazioni ma in quello delle relazioni esterne racconta qualcosa di importante, racconta di quella idea di parternatiato strategico con i paesi del Nord Africa che è insomma per noi un cambio di passo molto importante sul ruolo dell'Europa nel Mediterraneo, di cui l'Italia è stata portatrice in questi mesi. Sulle risorse chiaramente è una delle nostre grandi sfide, oggi sicuramente si stanno facendo i primi passi, vedremo come andrà avanti eventualmente l'accordo con la Tunisia, ma credo che questa sia materia che riguarda soprattutto la revisione del bilancio pluriannale, come dicevo ieri. L'Italia ha mandato un documento come voi sapete nel quale nella revisione del bilancio pluriannale chiede in buona sostanza soprattutto due cose, di tenere conto dell'instabilità dei paesi del Nord Africa e quindi del Mediterraneo per rispondere alla sua domanda e di considerare ovviamente a fronte dell'innalzamento dei tassi dei debiti del Next Generation EU, tenendo in considerazione il quadro mutato, però questo è un dibattito che è ancora in fase di avanzamento. Presidente, per quanto riguarda invece la situazione dei mutui che preoccupa moltissimi italiani, lei ieri è stata molto netta per quanto riguarda i tassi della BCE? Guardi, quello che riguarda la strategia della BCE ho già detto che cosa penso. Sui mutui il governo era già intervenuto, è un grande tema, è un tema sul quale siamo stati sensibili fin dall'inizio, lei ricorderà che nella nostra legge finanziaria noi abbiamo immaginato una norma per consentire a tutti di poter, quindi non in base alla discrezionalità del singolo istituto di credito, ma a tutti di poter convertire il loro mutuo a tasso variabile in mutuo a tasso fisso. Bisogna fare di più, bisogna fare di più, è una delle materie che sto discutendo, particolarmente con il ministro dell'economia, ma sicuramente soprattutto a fronte delle scelte che vengono portate avanti, questa è una di quelle materie sulle quali l'impegno del governo deve essere quotidiano. Non va interpretato secondo me politicamente sul tema della Santa Chega e come lei sa sarà in aula mercoledì e quello è il giorno in cui chiarirà la sua posizione. Buon lavoro! Buon lavoro! ragazzi, una, due! e quindi, come poterlo fare, come poter andare avanti? Come poter andare avanti? Sì, vedremo se ne siano agli consigli, ma come voi sapete, non è messo in conclusione. Vedremo, è up to the discussion. Io penso che sarebbe un ottimo punto di partenza, che sia un ottimo punto di partenza, soprattutto se quelle risorse si concentrano sul Mediterraneo, che è dove finora non sono state concentrate. Io penso che il tema non sia solo migratorio. Ah, dobbiamo mettere in inglese. Si chiede se la proposta della Commissione di 12 milioni di migrazione potrebbe essere sufficiente. E io ho detto che è importante capire che abbiamo bisogno di rispondere a questo problema, che non deve essere spostato solo sul livello di sicurezza. Abbiamo bisogno di cooperazione con i paesi mediterranei, i paesi africani. E questo è quello che stiamo lavorando, con le partenze strategiche. Penso che, per esempio, l'energia. E questo è quello che l'Italia stiamo lavorando. L'Europa ha un problema con l'energia. L'Africa è una grande produzione di energia. Prendiamo le cose in un'unità. Prendiamo le cose in un'unità. Prendiamo l'energia. Prendiamo le persone con l'investimento. Prendiamo l'energia per loro. Prendiamo l'energia per loro. Prendiamo l'energia per loro. E questo è il progetto strategico per cui l'Italia funziona. Quindi, lavoreremo sui investimenti. È anche per la discussione per il budget dei prossimi anni. Vedremo cosa gli altri paesi dicono. Ma è un punto strategico della politica europea. La politica europea è stata una buona partenza. Come si è avvenuto in un'energia per l'energia per l'energia? Come si è avvenuto in un'energia per l'energia? È un problema che stiamo andando in un'energia per l'energia per l'energia. In un'energia per l'energia per l'energia per l'energia per l'energia. Questo è un problema che bisogna fare imparare in ultrarti per l'energia per l'energia per l'energia. Cosa è l'energia per l'energia per l'energia per l'energia? Grazie mille.